Dice la ecuazione del movimento di un mobile r è ugual a 2t-4i più t-3j e te spiegli e non ti pagano ok? dobbiamo fare cose e non ci pagano posizione iniziale quando te vale 0 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 4i meno 3i e dai 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 è un vectore R3-R0 2, 0, io lo scrivo così, che tardo bene meno, meno 4, meno 3 che risulta che è 6 meno 3 6, 3 e il suo módulo, il módulo del vectore quanto è? di 6 al quadrato, ma 3 al quadrato è vero o no? sì ecuazioni parametricas R3, perché si pones R3? perché R3-R1 ecuazioni parametricas pensate YouTube gran video, grazie ma no tengo se, me aiudo un montón, sigue así grazie, avete visto quando la gente le da aprendo? sì, io tengo un master direzione di un trema che grande quizà con 500 saltos ecuazioni parametricas quindi x è ugual a 2t meno 4 2t meno 4 e la y t meno 3 e ugual a t meno 3 e ora come saco la trayectoria? la trayectoria, despeja la t en la x e la sustituyo abajo io despejo la t en la 2 e ugual a t en la x e la ugual pero vamos, lo que tu hai dicho está bien despejo la t en la x e la ugual e ugual e ugual queréis altro de estos o vos paso de la ua otra cosa? mañana moce, si da igual no cominciare mañana y hoy voy a pasar otra cosa, vale? uno de encuentro de esos que están tan preocupados ustedes no, uueva estés cagao preocupado o no cagar Ah, mi vanno per uno del cuento. Venga.